Siamo a metà maggio, la stagione estiva ormai alle porte, pur se nelle limitazioni per la diffusione del covid, ma la passeggiata Porto Scala di Torre del Greco è ancora in situazioni pietose. Come potete vedere la pavimentazione in legno è ancora assente o completamente dissestata, l'intero tratto ne è sprovvisto e bisogna camminare sui sassi e sulla ghiaia. Una situazione vergognosa se consideriamo che questo tratto nel corso dell'estate è frequentato da tantissime persone che vogliono godersi semplicemente una passeggiata lungo il litorale, lungo il nostro litorale, lungo la spiaggia. Tante persone vengono anche da fuori per poter godersi questo tratto, eppure a meno di un mese dalla riapertura, dal ritorno alle belle giornate, alle passeggiate, questo posto è ancora in uno stato di degrado pieno. Come potete vedere stanno aprendo anche i primi locali sul posto, i primi lidi, ma il comune non provvede ancora a una bonifica dell'intera area. In molti tratti la passeggiata è costeggiata da un vero e proprio fossato che la separa dagli scogli. Una discesa pericolosa soprattutto considerando che la zona è frequentata già oggi da bambini e ragazzi che specialmente con scarsa illuminazione potrebbero cadere o scivolare. Anche il tratto di via Calastro per raggiungere l'area giochi è invaso dalle piante, nessuna opera di giardinaggio, le erbacce invadono i marciapiedi rendendoli in molti tratti completamente inagibili. Come ogni anno l'area che maggiormente dovrebbe rilanciare la nostra città e garantirle attrattiva risulta abbandonata al dissesto.